Radio Liscio 1 Per te che in una giornata nera trovi serenità in un motivetto Per te che anche le piccole cose hanno un valore inestimabile Per te Radio Liscio 1 La radio della classifica ufficiale italiana della musica da ballo Radio Liscio 1 Perché possiamo dire noi viviamo, noi ci siamo, noi balliamo Radio Liscio 1, radio ufficiale italiana della musica da ballo Radio Liscio 1, balla l'Italia Liscio.1 presenta Top 10 La classifica ufficiale italiana della musica da ballo In collaborazione con Media TV Global Communication Scopriamo subito chi si trova nelle prime dieci posizioni in questa settimana Top 10 10 Cumbanele di Cristian Riccardi 9 Rossella Ferrari e Casanova con Il Canto del Mar 8 DJ Berta e Roberto Polisano con La Cucaraccia 7 Bagutti, Lambertini, Lanteri e Tarantino con Siamo l'Italia che balla 6 DJ Berta con Lento Violento Top 10 Ora scopriamo chi si trova nelle prime cinque posizioni 5 Omar Codazzi con Lacrime di Eroi 4 Il ballo di gruppo Despacito Al terzo posto c'è Il ballo di gruppo Subemela Radio di Enrico Iglesias Al secondo posto c'è Il ballo di gruppo Occidentalis Karma Primo posto per Non fermarmi di Omar Lambertini Rompi il muro e vieni via con me Vi diamo appuntamento alla prossima puntata Ciao Bicho pronto Grazie a tutti